Spoltore Penne al Caprarese e Derby per evitare la retrocessione in promozione. Una soltanto andrà allo scontro finale con Cupello o Casalbordino. La formazione sconfitta saluterà l'eccellenza. Padroni di casa con il vantaggio dei due risultati su tre, eventualmente dopo i tempi supplementari. Fischia Matteo Cavacini di Lanciano, coadjuvato da Domenico Colonna di Vasto e Nicola Giancristofaro di Lanciano. Prima della gara riconoscimento per mister Di Camillo e momento di forte impatto emotivo alla presenza dei figli. Al terzo minuto Cacciatore ci prova dal limite. Palena blocca. Qualche minuto dopo Diremigio non trasforma in rete il piazzato battuto da Cacciatore. All'undicesimo Selvallegra debole. D'amico blocca ancora senza problemi. Alla mezz'ora Petrarulo ha sui piedi il pallone del vantaggio. Innescato da Selvallegra e Colecchia, il palo però dice di no. Sull'altro versante in comprensione difensiva azulgrana. Cellucci interviene ma non ne approfitta. Si va a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con una pressione costante degli ospiti. Cellucci da distanza siderale scheggia la traversa. Un minuto dopo Miracolo di Palena sul colpo di testa di Silvestri, che riceve dalla sinistra da Cellucci. Intorno alla mezz'ora la punizione dal limite dello specialista Cacciatore non ottiene l'effetto sperato e si perde alto. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Petrarulo ha la palla buona ma manda alle stelle. Termina così e solo i tempi supplementari decideranno la retrocessa in promozione e la finalista contro la Virtus Cupello. Quarto minuto, calcio di punizione di Viegas, colpo di testa di Sichetti, l'ex di turno che centra il palo con Palena battuto. Dodicesimo minuto, ci prova guerra ma la sua conclusione termina sul fondo. Tredicesimo minuto, Tiberi serve Selvallegra, la conclusione però è alta. Giro di lancetta e conclusione improvvisa di Cellucci, Palena interviene e salva lo spoltore. Quindicesimo minuto, tiro a giro di Silvestri che però non inquadra lo specchio della porta. Nel secondo tempo supplementare, forcing del penne alla ricerca del gol. Ci prova guerra da 20 metri, Palena si fa trovare pronto. Al settimo minuto Tiberi ha l'occasione per chiuderla, ma D'Amico gli sbarra la strada e tiene in vita i vestini, che si riversano in avanti ma senza successo. Termina 0-0, spoltore in finale contro il Cupello. Il penne retrocede in promozione. Secondo me abbiamo anche cercato di proporre gioco, abbiamo avuto le nostre occasioni con il palo di Petrarulo al primo tempo. Con i supplementari ho perso anche un po' la cognizione della partita. Poi la parata di D'Amico su Tiberi, nei supplementari, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Ovviamente hanno messo qualità nella fine con Cacciatore, Guerra, Cellucci, Testi, tutti insieme. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita ordinata e è andata bene per noi. Il vostro percorso non è finito? Come si affronta ora la finale? Ora sicuramente dopo questi 120 minuti c'è bisogno di staccare e ricaricare un attimo di celepile. Da martedì ci pensiamo, sarà una partita diversa da oggi perché noi saremo obbligati invece a vincere nei 120 minuti giocando contro il Cupello che si è classificata meglio di noi. Però tanto anche oggi avevo detto alla squadra di non pensare al doppio risultato perché ci avrebbe potuto penalizzare. Dovamo fare la nostra partita e domenica a maggior ragione cercheremo di vincere. Poi chi sarà più bravo festeggerà. Purtroppo i sbagli sono stati fatti quindi adesso è inutile stare a dire abbiamo sbagliato qua. Purtroppo l'annata è iniziata male anche se poi nel giorno di torno siamo stati una delle, penso che a livello di punti credo siamo stati la terza o quarta forza del campionato. Chiaro che poi al momento migliore nostro è successa la situazione del Covid, 12 positivi. Ci siamo allenati oltre quasi un mese in 9-10 persone. Abbiamo fatto 5 partite in 10 giorni. Ci sono stati tanti problemi che sicuramente non è un alibi per carità. Però comunque ha contribuito a un'annata balorta. Però ormai è andata così. Io ti ripeto, come ho detto prima, a me mi dispiace per il penne, per il Presidente, per la società, per tutto penne. Perché penne non merita di le rocette. Quindi mi dispiace, l'amarezza più grossa è questa. Mi dispiace per il penne, per il città. Non ho parole, purtroppo ce l'abbiamo messa tutta. Questo è sicuro. Usciamo con la coscienza pulita perché ce l'abbiamo messa io, insieme ai ragazzi, ce l'abbiamo messa tutta. Grazie.